mamma e figlia indossano lo stesso abito a chi sta meglio la scelta di chanel totti grazie a mamma ilary blasi chanel totti a detta di molti somiglia sempre più a mamma ilary blasi sebbene in viso e negli atteggiamenti la giovane ereditiera sia la copia spiccicata di suo padre francesco totti non si può dire lo stesso del look le ultime tendenze sono il suo pane quotidiano tra abiti ed accessori extra lusso stessa cosa per unghie make up e capelli chanel non è mai fuori posto anzi pur avendo appena 17 anni la moda sembra avercela nel sangue ed è una componente essenziale nella sua vita insieme alla cura personale d'altronde con un nome come il suo non poteva che essere altrimenti la madre si è ispirata proprio ad uno dei suoi brand del cuore la popolare maison francese che da decenni confeziona dei veri e propri gioiellini dagli abiti fino alla cosmetica di lusso borse e accessori vari detto questo nonostante abbia la possibilità di accedere a cose sempre nuove ed esclusive la giovane totti in vacanza a monte carlo ha indossato un abito che abbiamo già visto alla madre le foto a confronto chanel totti con lo stesso abito di ilary blasi le foto a confronto in vacanza con parte della famiglia chanel si trova in una meta dove spesso si reca per trascorrere qualche giorno in tranquillità tra sfarzo e divertimento assicurati in una serie di scatti che ha condiviso poco fa sul suo profilo instagram si è mostrata con un vestito che i più attenti hanno già visto si tratta di un mini dress che ha indossato tempo fa mamma ilary blasi per una cena romantica insieme al suo compagno bastian muller chi delle due lo porta meglio vediamo come lo hanno abbinato secondo il nostro modesto e personale parere chanel vince a mani basse e vi spieghiamo perché lo smalto scuro e gli stivali argentati più bassi e arricciati svoltano l'abito che sembra quasi di tessuto e colore diversi indossato dalla giovane sicuramente ha giocato di contrasti per un abito leggero e senza troppe pretese che aspetta di essere valorizzato e arricchito grazie al resto dell'outfit per quel che riguarda i capelli invece il colore che porta attualmente ilary sta molto meglio con il viola dell'abito una delle nuance più di tendenza in questo 2024 entrambe hanno scelto uno stivale perfetto quando abbiamo a che fare con un abito corto insomma anche se miliardari e anche loro si prestano probabilmente a vicenda agli abiti e sono fan del riciclo tendenza sempre più in voga tra le star del momento